Per cosa valeva la pena di vivere se non per momenti come questi e più ancora per quelli che precedevano la regata? Tutti i quesiti inespressi e inascoltati di una vita intera prendono forma in un'unica potente domanda. Sono pronto. Trovare un significato agli sforzi che si fanno tutti i giorni, un significato alla vita quotidiana che facciamo tutti i giorni, alzarci, andare a lavorare per chi ha la fortuna adesso in questo periodo di andarci, tornare a casa la sera, accendere la tv, andare a letto e alla fine si arriva alla resa dei conti come di fronte alla regata. Alla resa dei conti ci troveremo lì a vedere se sono pronto, quello che ho fatto è stato sufficiente. Io non so se ci sia un senso dietro a tutto questo, sono sincero. Certo che è una domanda che bisogna porcela, la domanda sul senso della vita è una domanda che accompagna ognuno. Sapere se quello che è stato fatto è sufficiente per affrontare l'ignoto che si va a incontrare, non si tratta di un dubbio né di un'incertezza, non c'è più tempo per l'uno o l'altro, è solo una constatazione, una presa d'atto, la neutra osservazione di un fatto. Poi un uomo su una barca a motore, poco distante, pronuncia un'unica breve parola. Via! E tutto finisce. Grazie.